Chiuso a tempo indeterminato, lo stadio Daniele Mariotti è infatti stato interdetto. Cancelli chiusi anche per l'adiacente campo sussidiario Amos Mariani. La comunicazione urgente è arrivata nella giornata di ieri, venerdì 21 ottobre, da parte della dirigente responsabile del settore sport, turismo e cultura del comune di Montecatini, Simona Pallini. L'ufficio sport si legge stato destinatario di una relazione tecnica che certifica le problematiche di sicurezza strutturali su due impianti sportivi. Un fulmine a ciel sereno per le società che lo utilizzano per le loro attività agonistiche, il Montecatini Murialdo, il Montecatini Valdinievole e il settore dell'atletica leggera. La struttura inoltre è utilizzata anche per alcune attività esterne di educazione fisica del liceo scientifico Coluccio Salutati. Una doccia fredda anche per la stessa amministrazione, che sembra non fosse al corrente né tantomeno avvisata dell'imminente decisione di chiusura. I lavori ancora da eseguire, per i quali è scattata l'interdizione della struttura, sono relativi all'impianto luce, agli spogliatoi e alle tribune. Il sindaco Luca Baroncini al momento ha fatto sapere che l'amministrazione, in particolare lui stesso, stanno lavorando per cercare di riaprire il prima possibile. Secondo quanto abbiamo raccolto, il primo cittadino potrebbe assumersi direttamente la responsabilità di riaprire i cancelli dello stadio, firmando un'ordinanza già nelle prossime ore. Intanto il Montecatini-Valdinievole, questo fine settimana, è stato costretto a giocare fuori sede due match di campionato, gli Juniores al Brizzi di Massa e Cozzile e la prima squadra allo Strulli di Monzummano. Una soluzione che però è solo temporanea ed emergenziale, che non potrebbe essere sopportata dalla società, nel caso l'interdizione proseguisse nelle prossime settimane. Oggi infatti la dirigenza del Montecatini-Valdinievole si è riunita e ha avuto un colloquio con un legale, per valutare quali siano i rischi e le ricadute anche economiche. Lo stadio, come è noto da tempo, è in attesa di una parziale ristrutturazione. Per questo motivo la capienza è stata limitata a 99 posti.